Buongiorno, bentrovati, piacere di conoscervi, io sono il nuovo allenatore. Vi dico prima che non sono il primo ronzo che passa e nemmeno il primo novellino. Ho avuto la fiducia del presidente e della società intorno. Con me molte cose cambieranno, in primis il modulo. Come sarà il nuovo modulo, mister? Un modulo a zonzo. E cioè? Cioè, ognuno come cazzo ci pare, ma conosciamoci meglio. Tu come ti chiami? Dida. Nazionalità? Un brasiliano. Bravo, ti metto in attacco. Ma ciò ti importa? Sì, mo, mi spreco, un brasiliano importa. Allora pigliavo il pere e ci facevo guardare il pulmone. Pigliavo il zicco e ci facevo strappare i biglietti. Fai bravo. Tu mi diventerai di digno. Vedrai il goco e farai. Tu come ti chiami? Costa Curta. Pasta Curta, bravo. Evidentemente, data anche l'età, lavori nelle cucine. Sarei un difensore, mister. Difensore? Vabbè, però secondo me lavoro meglio in cucina. Allora, pasta curta. Mi raccomando, la pasta me la fa un po' scotta perché c'ho un ponte e un attimo, pam, che mi parte. Ok io? Bene, bravo. Tu ti chiami? Io sono Ambrosio. Gran centrale di sbattimento. Brasoliano. No, sono di Pesaro. Pesaro? Ci ho fatto nove anni di università, poi mi hanno bocciato. Parola d'ordine? Biulè! Mammo dorata, psicologica. Bravo. Tu, biondino, come ti chiami? Szevchenko. Szev? Szevchenko. Tu dove sei? Ucraino. Bene, grande traduzione dei portieri. Yashin, Gavroshki, tu mi giocano porta. Mister, ma io sono Bomber. Sì, Bomber, Bomber, dicono tutti così. Tu mi dai sicurezza fra i pali, tu mi giocano porta. Tu come ti chiami? Gattuso. Soprarromanato? Ringhio. Motivo? Perché meno gli avversari. Ha! Questo è buono. Io ti vedo che sei mollo. Ti vedo che non c'hai quella grinta. Hai capito? Tu devi uscire i contributi. Hai pagato i contributi? No. Allora vai a portare pasta curta in cucina, che ha bisogno di un comino. Vai, vai. Ci vediamo più tardi. Tu come ti chiami? Maldini. Mamma? Maldini. Ma hai sentito? Sono il capitano della squadra. Sì, beh, beh, io sono il sergente di Vascello. Ma facciamo il bravo. Dove vorresti giocare tu? In difesa. In che ruolo della difesa? Dove ti piace muoverti? Terzino. Terzino, in quel quartiglio. Ma fai il bravo. Si vede che non c'è il passato, che non c'è il presente e che non c'è il futuro. Se uno non c'ha la grinta, questo sport non fa per lui. Se non giocate bene, non siete da Milan. Allora non ho andato a giocare con un'altra squadra, che non so, una squadra monore. Lo Sosugna, il Ruffete. L'Inter. S'ho andato.